Saluti ragazzi, sono Mattex e benvenuti nell'ultima puntata di questa Champions Story con il Barcellona Ebbene sì, siamo arrivati alla fine, oggi vedremo le semifinali di Champions League e tutto il resto del campionato simulato ovviamente Andiamo a vedere eventualmente la finale di Champions League, qualora ci dovesse essere contro uno tra Real Madrid e Borussia Dortmund Prima però dobbiamo passare noi il turno contro la Juventus Andiamo a simulare prima questa gara contro il Deportivo La Colugna, tra l'altro tra le ultime in classifica vinciamo 2-1 Gol di Messi, gol di Roberto Firmino, partiamo a casa 3 punti, molto importanti Simuliamo anche la gara contro il Villareal, tra l'altro vorrei riprovare a portare poi questa serie magari più avanti come una sorta di road to victory, road to glory Fatemi sapere cosa ne pensate, 2-0 intanto contro il Villareal, molto bene Benvenuti nell'andata delle semifinali di Champions League, benvenuti a Barcellona-Juventus Quest'oggi al Camp Nou si giocherà la semifinale contro la Juventus, una Juventus che ha fatto molto bene in campionato Quest'anno però sta arrivando anche davanti in Champions League e in semifinale ha fatto bene sin qui, ha fatto molto bene nella fase a gironi Oggi però arriva il Camp Nou, molto attrezzato, un attacco splendido, l'abbiamo già imparato a conoscere anche con il Parma Qui è un pochino diverso però Ronaldo e Dybala rimangono fissi nell'attacco Dall'altra parte Real Madrid e Russia Dortmund, intanto questo è il tabellone completo della fase eliminazione diretta Via per l'inno della Champions League e sarà sicuramente una parità molto entusiasmante anche perché qui è l'andata Qui si decide molto del futuro di questa Coppa Ecco gli undici che schiera Mr. Mattex per la semifinale d'andata contro la Juventus Anche i sostituti abbiamo Neymar, Firmino e Dembele davanti Arthur, Reis e De Bruyne a centrocampo Alba, Van Dijk, Lenglet e Roberto Sergi Roberto in difesa con Ter Stegen a difendere i pali Questi invece gli undici con cui risponde la formazione bianconera E anche i sostituti c'è tra l'altro Sadio Manet in panchina Davanti Sterling, Ronaldo e Dybala Centrocampo Bentancur, Emre Can e Rabiot a scendere Poi abbiamo Alexandro, De Ligt, Bonucci e Alexander Arnold con Czesny in porta Buona partita, De Bruyne Aspetta l'uomo c'è sulla sinistra Neymar L'ha visto il passaggio perfetto che trova il brasiliano Neymar Calcia! Subito così Neymar Bel tiro, ottima però La respinta delle portiere Sterling, Rabiot Ancora Rahim Sterling Aspetta l'uomo c'è Bentancur Sterling di nuovo la finta Sterling! 1-0 per la Juve Gran gol di Sterling Perfetto, perfetta l'esecuzione Perfetta perché è riuscito a saltare praticamente tutto il centrocampo Arrivando davanti all'area Salta l'uomo e poi calcia col destro Gran gol di Sterling Primo di questa partita In Champions League sta facendo molto bene L'inglese ex Manchester City Arrivediamo intanto qui nel replay Il gol ottimo della Juventus Con Rahim Sterling Al 45esimo, quarto in Champions Ter Stegen Appoggia De Bruyne Non ne manca un quarto d'ora Poco meno alla fine della partita Dembélé Servito Girandosi salta Alexandro Molto bene per la Dembélé Dembélé aspetta l'uomo c'è dietro De Bruyne Servito Kevin De Bruyne E per in questa volta Non ci può fare assolutamente nulla Gran tiro di De Bruyne Una bomba Dal limite dell'area Risponde molto bene il Barcellona Ad un buon primo tempo della Juventus La Juventus è poi tornata in campo Un pochino forse più stanca rispetto alla Barcellona Barcellona che sfrutta questa grandissima occasione Con Dembélé che appoggia dietro Con De Bruyne Che calcia col mancino Una sassata E batte per in 1-1 Per il nostro Barcellona Che recupera Il gol di svantaggio Terzo di De Bruyne In Champions De Bruyne Ansufati Il piccolo talento blaugrana Che sta cercando ancora il gol Van Dijk Servito Non trova il gol Ma trova l'assist Ansufati 2-1 La Juventus viene rimontata 30 secondi Dalla fine della partita Con Van Dijk Gran gol Più che altro perché È arrivato Sin dalla difesa Virgil Van Dijk Ha detto Tanto Adesso la Juventus Non può più ripartire Ormai sta finendo la partita C'è solo più questo calcio Il punizione Battuta la punizione Van Dijk Si è infilato in mezzo all'area Non ha dato sospetto Non ha cercato Il tiro subito Anzi Prima Si è defilato Poi la palla è arrivata Sui suoi piedi Da Ansufati E 2-1 Intanto Finisce qui la partita 2-1 Barcellona che trova Un'ottima vittoria Il gol pesa Perché quello di Sterling Comunque È fuori casa Per la Juventus Si mettono a parlare A centrocampo I giocatori della Juventus Che bisogna forse Trovare un po' la quadra Per la Juventus Perché Abbiamo visto Un ottimo Centrocampo Difesa Forse qualche filtro In più Avrebbe dovuto darlo Ma L'attacco Fatto anche lì Molto molto bene 2-1 Che Prendo Molto volentieri Simuliamo anche la gara contro Il Siviglia Sarà una partita Molto importante Perché questo campionato È da vincere 4-0 Doppietà di Arthur De Bruyne E poi Neymar Per il 4-0 Questo turno Il Barcellona Se lo ricorda bene Per ben due anni Consecutivi Il Barcellona È uscito Nella semifinale di Champions League Benvenuti Nel ritorno Della semifinale contro la Juventus Quest'oggi Allo Juventus Stadium All'Allianz Stadium Si affronteranno Due squadre Molto forti Tra l'altro Dal prossimo video Il pallone Sarà poi diverso Perché In alcuni mi avete fatto notare Che in certe inquadrature Poi il pallone sparisce O comunque Non si vede molto bene Dunque provvederò Sicuramente a cambiarlo Però Qui oggi La Juventus Cercherà di far bene Cercherà di rimontare Un risultato che all'andata Visto favoriti Invece di Blaugrana Dall'altra parte È già passato il Borussia Dortmund Quindi Chiunque vinca quest'oggi Questo scontro Dovrà Affrontare poi il Borussia Dortmund In finale Che ha superato per 3-2 Il Real Madrid Un Real Madrid che risultava favorito Sulla carta Ma che poi è riuscito Ad uscire Con un ottimo Borussia Dortmund Oggi la Juventus Cambia forse qualcosina Nella squadra Nell'undici titolare Il Barcellona cambia molto Dalla scorsa partita Perché Ha avuto il campionato di mezzo E tanti giocatori Molto stanchi Abbiamo bisogno Di giocatori freschi Veloci E che sappiano Tenere questo risultato Tenere questa partita Perché è molto Molto importante Per ambo le squadre Il risultato finale Ecco i nostri titolari Di Bala Le finte Di Bala Appoggia Ad Alexandro Che calcia Ha respinto il tiro Da Van Dijk Poi Ronaldo Ancora Gioia Scesni 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 Tiorare questa volta Gran tiro poi però Di Ansufati Che ribatte Alla parata E fa 1-0 Ter Stegen Spazza Colpisce Ronaldo Attenzione A Skriniar Che sbaglia anche il passaggio Ronaldo Tocca per Rabiot Ancora Ronaldo 1-1 E la Juventus Sfrutta una disattenzione Clamorosa Della Barcellona In difesa Prima Con Ter Stegen E con Skriniar Dopo Andiamo A rivedere qui L'errore Dell'ex difensore Dell'Inter Poi la palla Arriva A Rabiot Che appoggia per Ronaldo E 1-1 Ottimo tiro del portoghese Anche Van Dijk Poteva forse Fare qualcosina in più Al trentesimo Però Siamo 1-1 Bentancur Di tacco Per Emre Can Le finte Ronaldo Si alza Al palone Calcia Gran tiro Di Cristiano Ronaldo La palla però Esce Al lato del palo De Jong Forse ultima azione Non c'è Più tempo La Juventus Attaccato Per tutti Questi secondi 45 minuti Non è bastato però Ai bianconeri Il Barcellona E in finale Di Champions League Dopo due anni Consecutivi In cui la squadra Veniva eliminata Nelle semifinali Soprattutto dal Liverpool Perché per due anni Consecutivi I Rez Hanno mandato a casa I Blaugrana Quest'oggi La Juventus Viene eliminata Proprio dal Barcellona Che si qualifica In finale Simuliamo la gara contro Il Valiadurid Gara anche qui Importante Da portare a casa Come ormai tutte Quelle del campionato 4-0 Anche qua De Bruyne Doppietta di Neymar Molto incisivo E decisivo Neymar Da quando è arrivato Simuliamo la gara contro Il Lago Etafe Anche qui Cerchiamo i tre punti Cerchiamo il risultato Positivo 3-0 Molto bene De Bruyne Ansufati E Griezmann Anche qui Molto bene Malaga Contro Barcellona Al Camp Nou Barcellona che cerca Anche qui Come sempre La vittoria E arriva 5-0 Semedo Firpo Busquets De Jong E Griezmann Per completare questa vittoria Tre punti Portati a casa Del Barcellona Ultima giornata di campionato Decisiva Per la vittoria Di quest'ultimo Espagnol Barcellona Derby All'ultima giornata di campionato Super Decisivo E il Barcellona Vince 5-0 Doppietta di De Bruyne Griezmann Neymar E Van de Beek E dunque Il Barcellona E ufficialmente Campione di Spagna Batte il Real Madrid E l'Atletico Madrid Per la conquista Allo scudetto Barcellona Volusia d'Orto Quindi intanto La finale L'avevamo preannunciato E qui Ecco La finale Del campionato 105 punti Dalla Barcellona Tre pareggi Una sconfitta 104 punti Invece Real Madrid Di poco sotto 102 L'Atletico Madrid Un campionato Folle Ma che il Barcellona Riuscito a portare a casa Qui intanto Retrocedono Leganes Espagnol E Deportivo La finale E' arrivata Dopo Tante insidie Nel percorso Dal Champions League Per ambo le squadre Oggi Tutto finirà In 90 minuti Benvenuti All'Olimpia Stadion Per la gara Tra Barcellona E Volusia Dortmund Due squadre Che si sono già Incontrate parecchie volte In precedenza Già lo scorso anno Barcellona E Volusia E Dortmund Erano nello stesso Girone Un punto a testa Una vittoria a testa Per il Barcellona E per il Borussia Dortmund Questo E' il tabellone completo Dagli ottavi di finale in poi Un Borussia Dortmund Che riuscite a battere Paris Saint Germain Tottenham E Real Madrid Per poter arrivare In questa finale Una finale che Tanto attesa Dal Borussia Dortmund E tanto attesa Anche dalla Barcellona Che non la vedeva Da qualche anno Una Barcellona Che vuole sicuramente Rifarsi Dopo due anni Eliminati Dalla Liverpool Un Barcellona Che vuole tornare alla vittoria Vuole tornare Alla gloria In Europa Dopo averla ritrovata In Spagna Con la vittoria Sia della Coppa di Spagna Sia del campionato Oggi Ci si cerca Di portare a casa Tutto la Champions League Ed il triplete Benvenuti In questa finale Che ha tanto tanto Il sapore Di una grande occasione Di una grande partita E intanto I tifosi Pieni di gioia Che incitano la propria squadra Qui si può ancora Andare allo stadio Qui ci si gioca ancora Tutto in campo Oggi Barcellona Borussia Dortmund Barcellona da una parte Borussia dall'altra E la Coppa in mezzo Che presto verrà Sollevata da uno dei due capitani Ecco gli undici titolari Della Barcellona Con a fianco i sostituti C'è Griezmann Che parte dalla panchina Anche Arda Turan Che vuole partecipare alla festa Nel caso in cui Barcellona riesca a portare a casa La Coppa Neymar Messi davanti Con Dembele sulla destra Fabian Ruiz De Bruyne Busquets A centrocampo Un centrocampo molto solido Voluto dare Una fisicità in più A questo centrocampo Con Sergio Busquets Un po' a sorpresa In questo undici titolare Poi In difesa abbiamo visto Van Dijk Ed Hernandez In centro Semedo E Junior Firpo Sulla sinistra E sulla destra Due giocatori molto interessanti Molto giovani Che sono cresciuti Assieme alla squadra Ed assieme a noi Ecco però La formazione con cui risponde Il Borussia Dortmund Con Burkin Port Un giocatore Molto forte Che è cresciuto negli anni E qui anche I panchinari Con Dries Mertens Nostra conoscenza Al Parma Ecco gli undici Schierati Dalla formazione Borussia Dortmund C'è Al Kasser Davanti L'ex Della partita L'ex di turno Comincia Ora la sfida Buona partita Busquets A tutta velocità Tocca per De Bruyne Sulla destra c'è Dembélé Servito Dembélé Una prateria Davanti a sé Solo più Burki Dembélé calcia Su Burki E poi la palla rimane lì E Alderweirad Calcia E spazza il pallone Gran tiro però Della Borussia Dortmund O meglio del Barcellona Bella copertura Della Borussia Dortmund Qui anche Busquets Prova a calciare Palla fuori Neymar Per Dembélé Servito sulla destra Che sta facendo una buona partita Ma deve trovare il guizzo finale Di tacco Per Arda Turan Ottimo tiro La palla che però sfiora Di pochissimo Il palo a lato di Burki Daoud Per Dubois Ancora Daoud Calcia Il miracolo di Ter Stegen A 10 secondi Dalla fine dei 90 minuti Qui un grande Una grande grande parata Tanto qualche sostituzione Per ambo le squadre Ora cross in mezzo Ter Stegen Ferma il pallone Con le mani Spazza in avanti Ma non c'è più tempo Credo Per la fine della partita Eccola qui Eccola qui Non c'è più tempo Per l'ultima azione Fine Dei primi 90 minuti Dunque saranno Supplementari Ci saranno altri 30 minuti Non bastano 90 Ce ne vorranno Almeno 120 Più eventuali Calci di rigore Ecco però le statistiche Di Barcelona Borussia Due squadre Molto forti Tra l'altro ci giochiamo Anche l'ultimo cambio Mister Matex Fa entrare Van de Beek Per dare un po' più Di velocità Alla squadra Per dare un po' più Di velocità Alla centrocampo Che forse in questa fase Ne avrò tanto Tanto bisogno C'è però Ansufati È entrato Poco va dalla fine Che è un giocatore Molto interessante E molto veloce Eccolo qua Ansufati dietro Per Messi Ne parlavamo giusto bene Ed Ansufati mette una perla In mezzo all'area Per Lionel Messi Capitan Messi Ci doveva essere Doveva essere titolare Doveva avere la fascia di capitano Lui questo oggi Vicino c'è anche Arda Turan Che ha fortemente chiesto Di giocarsi questa partita Ha fortemente chiesto Di volere altri trofei Prima di ritirarsi Qui Il passaggio di Ansufati È una perla Per Lionel Messi 1-0 Al 93 Secondo gol per lui Pranta Daoud Calcia Ancora una volta Daoud Ancora una volta Ter Stegen Ormai È un duello Personale Quello tra Ter Stegen E Daoud Due grandi tiri Due grandissime Parate Un'altra relazione in mezzo C'è anche Hazard Che tocca Lucas Mora Prova la rovesciata Arda Turan Alla ragazza A destra Dove c'è Ansufati Che ha cambiato Questa partita Ansufati Sterza Aspetta l'uomo C'è Arda Turan Che calcia Messi Stoppa La finta Ancora Messi Messi Prova a calciare Atterrato E qui È calcio di rigore Forse Ultima Occasione Ultima grande occasione Per il Barcellona E probabilmente Qui si guiderà Anche la partita Perché non credo Ci sarà più tempo Per il Borussia Dortmund Di ripartire qui Fallo Molto ingenuo Sul Lionel Messi Io Il calcio di rigore Lo farei battere Ad Arda Turan Ultima partita Ultima chance Arda Turan Calcia Arda Turan 2-0 Barcellona Un rigore Splendido Splendido Non ho mai tirato Un calcio di rigore Così bello Con Arda Turan Arriva il gran gol Arriva il colpaccio Alla centoventesimo Li vediamo qui Con il destro Che piazza La palla Nell'angolino Spolvera Toglie le ragnatele Dall'angolino Burkic non ci può arrivare Nonostante sia un partitore Molto alto Si allunga il più possibile Per poter prendere Questo pallone Ma Arda Turan Fa il primo gol In Champions League Con il Barcellona Un gol molto Molto importante Adesso il Borussia Prova a ripartire Toprak Daud Deleni Brandt Ancora Deleni Non c'è Più tempo Finisce Qui La finale di Champions League Finisce qui Parcellona Borussia Dortmund 2-0 Messi Ed Arda Turan Con Ansufati Che ha cambiato definitivamente la partita Ed Ansufati è stato il giocatore chiave Di questa serie Che abbiamo già selezionato all'inizio E da portare fino in fondo Avrebbe dovuto giocare tutte le varie di Champions League E così è stato Anche l'ultima La finale Molto importante L'innesto di Ansufati Dalla panchina Molto importante Sia Per la velocità Perché comunque Al novantesimo Avere un giocatore Fresco Che corre Sulla fascia È molto importante Perché considerando I terzini Sono un pochino più stanchi Dell'altra squadra È stato un ottimo innesto Soprattutto anche per l'assist Anche per il secondo Perché la palla è arrivata Perfetta Poi dietro Poi c'è stato il fallo Invece su Messi E poi c'è stato il calcio di rigore Trasformato Darda Turan Un gran gol Molto importante Sentivo di dover far giocare Darda Turan Sentivo di dovergli far battere Questo calcio di rigore Intanto Messi Prende la coppa Noi prendiamo Il nostro Mitico joystick E solleviamo la coppa Solleviamo il nostro joystick Vinciamo 2-0 Una vittoria molto importante Sudata Sudata fino all'ultimo Perché Abbiamo provato a vincere Tutto subito Nella prima stagione Non siamo però riusciti Abbiamo fatto bene In alcune circostanze Ma all'inaltre Siamo riusciti di nuovo Con il Liverpool Oggi però Il trigonfo Ed è il nostro Barcellona qui Vorrei fare una piccola Espressione mia Diciamo Voglio dire che È stata una bella serie Nonostante sia stata Meno supportata Di quella del Parma Questo è evidente Un po' a tutti Però È stata comunque Una bella serie È stata una serie Che ho iniziato a portare L'anno scorso Con la Juventus Solo per riproporla Quest'anno Adesso poi vedremo Se effettivamente Andarla Continuerà a fare Oppure no L'idea sarebbe Poi quella Eventualmente Di continuarla Da questo salvataggio Quindi prendere Eventualmente Una squadra Da questo salvataggio E avendo Praticamente Fatto il Il tripleto Ormai abbiamo vinto Tutto Champions League Campionato E Coppa Di Spagna Potremmo poi magari Pensare a una squadra Di 5 stelle o più Però Vorrei vedere con voi Vi lascio in alto Il sondaggio a destra Non so se farò Di nuovo Una serie Stile Questa qua Quindi Con tutte le partite Simulate E poi la Champions League Giocata Oppure una serie T stile Il Road to Victory Di Menzo Che sta portando In questo periodo Quindi Tutto simulato Poi la finale Di Champions League Andremo a vedere Fatemi sapere voi Magari prendere altre squadre Intanto Giovedì Vi lancio questo Ci sarà La live Con la ricostruzione Del progetto Della Nofer Mi raccomando Non mancate Mercoledì Carina Natale Con il Parma Ci si vede In un prossimo video Ci si vede In una prossima live I link sono qui Tutti in descrizione Iscriviti al canale Lasciate un mi piace Al video Noi ci vediamo Alla prossima Sempre qui Ciao ragazzi